DIGICAR contro Ivo Pulga Serie A, girone 2, campionato master Le due squadre sono divise in classifica da soli e tre punti L'Ivo Pulga, se dovesse vincere, farebbe bingo Acchiappando in testa la classifica, oltre al DIGICAR Anche Black Castellu, che nel turno precedente ha battuto proprio i verdi Col punteggio di 7-1 Parte Benelivo Pulga con Melis, che in sostanza salta tutta la squadra avversaria Melis, attenzione, si presenta sulla sinistra Melis entra in area di rigore, Cannata dice di no, bravissimo Ora Christian Basciu per Claudio Basciu sulla sinistra Il traversone in area di rigore Enna Salvolo, Sizia, si oppone in maniera eccellente Ma è stato ottimo inizio da parte di ambo le squadre Ora Floris, chiamato a impostare Floris dentro per Lennars La botta da fuori, palla che bacia il palo sinistro e si sacca 1-0 per la capolista al settimo minuto Capolista che insiste su questa sbavatura degli Vopulga, Ennaz recupera palla al limite Ennaz ancora lui il tiro Pallone che termina di pochissimo sul fondo Ora Lennars da destra, taglia tutto il campo a servire Ennaz sulla sinistra Ennaz al limite Contro Melis Ennaz lo salta Attenzione, palla che bacia il palo sinistro esterno Sfortunato il DIGICAR Ora Christian Basciu dentro per Di Martino Di Martino dietro per Lennars La botta di prima Attenzione, pallone che termina non di molto Sopra la traversa difesa da Sizia Adesso il break degli Vopulga Comberosi dentro per Rice Rice ed è bravissimo Cannata a mettere il pallone Oltre la traversa Adesso Lennars Stoppa al volo Palla per Di Martino Entra Nara di rigore C'è il 2-0 Al tredicesimo Il raddoppio Della capolista Capolista che insiste Christian Basciu Da destra Dentro ancora per Di Martino Che gelasizia sul suo palo 3-0 Doppiata per lui in soli 4 minuti Ora Rice Che ruba benissimo Palla a Floris Rice che si invola Ma si divora Il gol che avrebbe riaperto La partita Andiamo adesso Nel secondo tempo Con Di Martino Centralmente per Ennas A limite Ennas Pallone che va a sfiorare Il palo di destra Adesso Livopulga Con Rice Che lancia Melis Melis entra in area Di rigore della sinistra Il diavonale Pallone che termina di pochissimo A fondo campo Ora Lennars Punizione da limite La botta Palla a sfiorare Il palo di destra Bene Molto bene La capolista Almeno per adesso Di Martino Dentro per Lennars A sua volta dentro per Ennas Ancora per Di Martino Che si divora La tripletta Personale Ora Macioni Centralmente Per Rice Rice evita anche cannata Ma Floris Ci mette una pezza Quando sembrava fatta Per Rice Adesso Ennas Centralmente Per Lennars Sulla sinistra Lennars Salta molto bene Diego Banca Entra in area della sinistra Diagonale vincente 4 a 0 L'ottavo minuto Partita chiusa Adesso Ivo Pulga Che cerca di reagire Comperosi Il suo piazzato Dal limite Alla destra Del portiere 4 a 1 Adesso Sizia Bravissimo A evitare L'1 a 5 Lennars Sulla destra Centralmente Per Christian Basch Poi Ennas Sulla sinistra Sizia Ancora una volta Si oppone da campione Poi Ennas Dal limite Palla alla destra Di Sizia 5 a 1 Al trentacinquesimo Minuto Di gioco A 4 minuti Dal termine Ivo Pulga Anichilito Ivo Pulga Però reagisce Rice dentro Per Melis C'è il gol Della bandiera Da due passi Di Melis 8 a 2 Al 48esimo Di Gicar Di Gicar Però esiste Dentro il pallone Di Di Martino Per Imenes 9 a 2 Che rullo Compressore Questo di Gicar Ancora Di Martino Dentro per Ennas 10 a 2 Allo scadere Di Gicar Vince Allunga Sulle seguitrici E vede Il titolo Qualcosina di buono L'abbiamo fatto Adesso vediamo La prossima partita Il campionato Ancora a lungo Secondo te Comunque sia Questa squadra Quest'anno Ha le qualità Per arrivare in fondo Sì Abbiamo costruito La squadra Per vincere Questo campionato Non mi tocco Perché sarebbe brutto E quindi Sì Speriamo di arrivare In fondo Lassù Ok Nico Settimana prossima Contro Cucumeo Sogni il gol Dell'ex Eh diciamo Non proprio Però diciamo Che segnare Contro William & Réu È sempre bello Poi c'è un Alessio No Alessio Febboli No Alessio Febboli No Comunque È un derby Ok Perfetto Grazie ragazzi Un bocca al lupo Per il proseguo Ciao Grazie